Ciao ragazzi, in questo video vediamo come realizzare uno smart contract che permetta di effettuare lo staking di un NFT proveniente però da una collezione NFT sotto standard IRC721 e questo contratto ci ricompenserà con un token IRC20 in base a quanto terremo i nostri NFT in staking. Vi lascio in descrizione il link di GitHub dove poter andare a prendere questi codici che adesso comunque vedremo insieme. Il primo file mynft.sol contiene semplicemente del codice per andare a realizzare una semplicissima collezione NFT andando a importare IRC721.sol e unable.sol da OpenZeppelin. Ecco qui che viene creato il contratto, il mynft, che è IRC721 e unable ovvero va a riprendere delle funzionalità che sono delle IRC721.sol e dell'unable.sol Poi vediamo come qui viene dichiarata la total supply e nel costruttore viene passato IRC721, mynft e mnft ovvero il nome e il simbolo. E qui una semplice funzione di safe mint che minterà un NFT all'address che sarà specificato e che poi aumenterà la total supply. Ma il bello arriva proprio nel file mytoken.sol. Infatti qui oltre a prendere IRC20.sol o unable.sol, IRC721holder.sol e IRC721.sol sempre da OpenZeppelin viene creato sempre il contratto e qui viene fatto un mapping per il token on and off e un mapping per il token stake debt. E poi vediamo qui sotto una delle cose principali del contratto di staking, le mission rate con la quale viene scelta appunto la frequenza di immissione dei token. Le funzioni fondamentali per un contratto di staking sono ovviamente la funzione per mettere in staking i token che tramite la funzione safe transfer from manderà l'NFT dal message sender, quindi da noi che stiamo facendo partire lo staking all'indirizzo di questo contratto e gli manderà il token con l'ID specificato. E il token owner of di quel token ID, quindi facciamo dell'NFT numero 1, saremo appunto noi, ovvero il message sender. E poi qui sotto vediamo al token stake debt, sempre del token ID, un block .timestamp, ovvero quello che terrà conto del tempo di staking di quell'NFT. Poi qui sotto viene calcolato tutto il tempo per il quale l'NFT è stato in staking e ci fa il return di questo tempo passato in staking per l'emission rate. E poi qui sotto vediamo la funzione se vogliamo principale, quella che ci permetterà di togliere dallo staking il nostro NFT, quindi riceverlo indietro, insieme ai token che ha generato. Infatti qui vediamo function unstake, il token ID, ovvero l'ID del token che vogliamo togliere dallo staking, che per prima cosa avrà un require, ovvero che il token owner of del token ID sia uguale al message sender, altrimenti apparirà il messaggio you can't unstake. Infatti vediamo come qui sopra c'è scritto che il token owner of del token ID sia il message sender quando appunto l'NFT con quell'ID viene messo in staking. Quindi facciamo che io con il mio indirizzo metto in staking il token con ID1. Ovviamente se arriva un'altra persona con un altro indirizzo che prova a fare il claim di quell'NFT e apparirà il messaggio you can't unstake. Poi vediamo qui sotto come venga mintato al message sender la quantità di token per quel token ID dell'NFT e sempre qui sotto NFT.transferfrom da questo indirizzo, quindi di questo contratto, al message sender quel token ID per cui sta facendo richiesta. Infatti quando mettiamo a mintare un NFT come anche quando mettiamo in staking delle cripto, noi le inviamo ad un altro contratto che farà tutti i suoi procedimenti e poi quando toglieremo dallo staking quelle cripto o in questo caso quelle NFT, ci verranno ridate indietro più tutto quello che abbiamo guadagnato durante lo staking. E poi ovviamente deve fare il delete del token owner off di quel token ID e il delete del token stake debt sempre di quel token ID. Per prima cosa adesso dobbiamo deployare in blockchain myNFT.sol, quindi se non avete il compilatore automatico che io in questo caso ho e che si attiva da qui, dovrete andare in questa pagina e cliccare compile myNFT. Appena avrà finito potrete scendere qui sotto, andare su injectedweb3 che prenderà la rete con la quale siete connessi su Metamask. Infatti vedete come nel mio Metamask sono connesso alla Rinkby e qui sotto apparirà la Rinkby. Ovviamente se voi doveste cambiare rete, qui apparirà l'altra rete. Una volta fatto scendo qui sotto dove c'è scritto ownable finché non trovo myNFT.sol. Adesso clicco su deploy, devo ovviamente confermare la transazione su Metamask e devo aspettare il tempo necessario perché questo contratto sia deployato in blockchain. Adesso che appare questa spunta verde, vediamo come nei deployed contracts appare appunto questo myNFT con il suo contract address. Adesso che abbiamo questo contract address possiamo fare copy, andare in mytokens.sol, anche in questo caso compilarlo se non avete l'autocompile, poi scendere sempre qui sotto, andare a cercare myToken e qui ci chiede appunto l'indirizzo dello smart contract della collezione NFT. Io faccio ctrl-v di quella che ho appena copiato e clicco su deploy. Anche in questo caso devo ovviamente accettare la transazione su Metamask. Appena avrà terminato, cliccando su questa freccetta e quindi riducendo myNFT, vedo che sotto appare anche myToken. Ricordate però che per far funzionare un contratto di staking, quindi al quale noi vogliamo trasferire il nostro NFT e lasciare lì per un tot tempo, e in cambio ricevere poi tramite la funzione unstake l'NFT indietro e il token IRC20, dobbiamo ovviamente copiare il contract address di questo myToken, aprire di nuovo myNFT e scendere fino a che non troviamo set approval for all. Clicchiamo su questa freccettina, incolliamo il contract address e qui sotto scriviamo true. Dopodiché clicchiamo su transact ed approviamo anche in questo caso la transazione su Metamask che permetterà a questo smart contract di accedere ai nostri NFT. Ok, anche in questo caso la transazione è andata a buon fine, però ovviamente per poter mettere in staking un NFT bisogna effettivamente avercelo questo NFT. Quindi aprite il vostro Metamask, copiate il vostro indirizzo, andate qui dove c'è la funzione safe mint, cliccate questa freccettina e nell'address incollate il vostro indirizzo. Dopodiché cliccate su transact. Confermiamo anche in questo caso la transazione e una volta che la transazione sarà andata a buon fine possiamo scendere qui sotto dove ci sono le funzioni blu, ovvero tutte quelle funzioni che leggono lo smart contract, mentre quelli arancioni sono quelle che scrivono sullo smart contract. Clicchiamo su total supply e vediamo come adesso è 1, mentre prima, anche se non l'ho fatto vedere, era 0. E adesso che un NFT è stato mintato posso tornare qui sotto nel myToken e qui dove c'è la funzione stake posso inserire il token ID, ovvero l'1 perché io ho mintato il numero 1 e cliccare su stake. Anche in questo caso approvo la transazione e quando ha finito posso andare qui nelle funzioni blu, cliccare su emission rate e vedere appunto qual è questa emission rate. Poi qui sopra troviamo calculate tokens. Mettiamo appunto il token ID dell'NFT che abbiamo messo in staking e clicchiamo calculate tokens. Vediamo come questi sono i token che sono stati calcolati. Adesso però voglio togliere il mio NFT dallo staking. Quindi salgo qui sopra dove c'è scritto unstake, inserisco il token ID dell'NFT che voglio togliere dallo staking e clicco unstake. Confermo la transazione e una volta che questa transazione sarà andata a buon fine io posso andare qui nel balance off, inserire il mio indirizzo e una volta cliccato balance off mi dirà quanti token sono appunto di questo indirizzo. Quindi vediamo come in questo poco tempo che io ho lasciato il mio NFT in staking abbia ricevuto questi token. Se volessimo fare un'altra prova potrei andare qui nel my token, fare il copia e colla del contract address, tornare nel mio metamask, andare qui in import tokens, mettere il contract address e vediamo che una volta inserito il contract address troverà da solo sia il simbolo sia i decimali e clicco su add custom token. Faccio import tokens e vediamo come appunto questi sono i token che ci sono arrivati. Ovviamente perché qui ci vengono mostrati nella loro interezza. Vediamo come però le cifre corrispondono. 8, 6, 8 e anche qui 8, 6, 8. Ovviamente però come giusto che sia con i calcoli che abbiamo fatto nel nostro smart contract con qualche virgola a sinistra. Adesso che però il nostro token non è più in staking, se volessimo togliere il permesso a questo smart contract di operare con i nostri NFT, basterà tornare qui dove c'era il set approval for all e lasciare questo indirizzo se già c'è. Se non ci dovesse essere più per qualche motivo, magari perché avete aggiornato la pagina, fate di nuovo ctrl V di quello smart contract e da true passate a false. Una volta fatto cliccate su transact. Anche in questo caso scendiamo qui sotto e confermiamo la transazione ed ora che anche questa transazione è andata a buon fine potete stare tranquilli che questo smart contract non ha più la possibilità di operare con i vostri NFT. Questo corrisponde un po' a quando su Metamask revocate l'accesso ad alcuni siti web che ovviamente alle spalle hanno uno smart contract di operare con il vostro wallet. Ed anche per questo video dove vediamo come realizzare un semplice smart contract per mettere in staking gli NFT di una collezione è tutto. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!